ciao runners e ciao amanti della corsa io sono lorenzo maggiani e questo è il podcast da 0 a 42 oggi torna un tipo di puntata che a me gasa un sacco magari non gaserà a tutti voi ma va così tanto al calendario editoriale lo faccio io chi altro se no e lo faccio anche in base come mi gira e a cosa mi attira cosa trovo anche a volte nel web che mi attira ma perché dico questo perché quella odierna è una di quelle puntate dove prendo uno o più studi scientifici sulla corsa o in questo caso sull'ultra e ve li racconto infatti non si tratterà principalmente di dare consigli anche se qualcosa quella magari si vedrà o comunque non si tratta neanche di parlare di esperienza personale queste cose magari le farò in un'altra puntata ancora ma non oggi stavolta parto e baso tutto su queste ricerche scientifiche per l'appunto spiegandole e anche analizzandole in particolar modo ho trovato un articolo e due studi sulla gestione del ritmo di gare soprattutto di ultra running che adesso vado a commentare come sempre per i più curiosi ve li linko anche nelle note dell'episodio se andrete a spulciare vedrete che il terzo articolo che vi ho linkato ha riportato anche lui gli altri due studi e ve lo dico onestamente prenderò molto spunto da esso da quest'ultimo articolo perché l'un reputo molto interessante è davvero ben fatto ci andrò comunque ad aggiungere le mie analisi non mi limiterò alla mera traduzione anche se effettivamente sì alcuni concetti li ho presi effettivamente da lì è giusto essere onesti partiamo però dalle prime due ricerche esse si basano su gare di 100 chilometri di 24 ore roba che oltretutto io non pratico e forse non praticherò neanche mai ed è per questo che oltretutto oggi non vi posso neanche portare la mia esperienza personale ciò nonostante e molti concetti restano validi esattamente allo stesso modo anche se la vostra gara obiettivo fosse un po' meno lunga di 100 chilometri certo ci sarà qualche lieve differenza ma la sostanza circa la gestione del passo e dello sforzo spalmato su tempistiche così lunghe e dilatate non cambia però prima ancora di partire vi proverei a porre una domanda che pure lei riprendo dall'articolo citato vi darò poi la risposta nel corso dell'episodio tra queste strategie di gestione degli sforzi su una gara di ultra qual è secondo voi la migliore uno partire abbastanza forte fin dall'inizio e provare a fare più strada possibile prima che le forze vadano ad esaurirsi costringendo a rallentare 2 fare una sorta di negative split partendo più conservativi all'inizio e poi puntare ad aumentare il ritmo della seconda metà 3 cercare di correre allo stesso ritmo in modo costante per tutta la gara o meglio allo stesso sforzo percepito dato che i cambi di pendenza di certe competizioni non possono permettere un passo sempre sempre uguale 4 nessuna di queste ma un'ulteriore strategia ancora che vi possa venire in mente pensateci un attimo pensate a quale potrebbe essere di queste la risposta corretta e dopo ovviamente lo vediamo la risposta più precisa però ve la darò nei prossimi minuti nel corso dell'episodio che quasi andrà a dipanare così uso questo sporco trucco di marketing per costringervi ad ascoltare la puntata fino alla fine o quasi partiamo dalla prima ricerca pur non essendo recentissima e datata 2004 penso proprio che i dati restino ugualmente interessanti qua sono stati presi in esame i risultati del campionato mondiale di 100 chilometri dividendo i 67 finisher in categorie in gruppi da 10 runner ognuna più una con i restanti 7 atleti questo fatto in base al loro tempo di arrivo quindi un macro gruppo con i primi 10 un altro con quelli arrivati dall'undicesimo al ventesimo e così via sono stati esclusi dal conteggio idnf chi non è arrivato altrimenti i partecipanti sarebbero stati un po di più di 67 da questa ricerca è emerso che i runner migliori andavano più piano del 15 per cento nella seconda parte rispetto alla loro velocità iniziale mentre i corridori più lenti quelli che sono arrivati nelle posizioni di rincalzo rallentavano molto di più da cui possiamo anche evincere che gli ultra runner più veloci 1 hanno corso con meno variazione di velocità siano rallentato ma non troppo 2 hanno comunque già iniziato la gara ad una velocità maggiore rispetto ai corridori più lenti perché non è che quelli che sono arrivati dopo siano partiti più forte di loro più o meno le posizioni sono rimaste stazionarie numero 3 sono stati in grado di mantenere la velocità iniziale per una distanza maggiore prima di rallentare ora prendete queste prime informazioni e archiviatele tenetele da mente tenetele da parte e andiamo avanti con il secondo studio questo è riferito alla 24 ore se vogliamo qua c'è pure più ciccia del primo ci sono più dati e poi anche più recente c'è pure un campione maggiore di atleti preso in esame infatti i dati sono riferiti a 398 uomini e 103 donne partecipanti a 5 edizioni della stessa gara sono stati esclusi anche qua tanti runner che non rispondevano a giusti requisiti e anche qui pure ovviamente escludendo i ritirati anche in questa seconda analisi così come nella prima gli atleti sono stati idealmente divisi in più macro gruppi in questo caso 4 per la precisione in base al chilometraggio percorso nell'arco delle 24 ore gruppo 1 con i 125 corridori più veloci che hanno coperto una distanza media di 180,5 chilometri gruppo 2 con 126 runner leggermente meno forti di questi che hanno corso in media 142,4 chilometri gruppo 3 con i 125 corridori medi che hanno percorso una distanza media scusate il gioco di parole di 122 chilometri e il gruppo 4 con i 125 corridori più lenti loro in media hanno fatto 97,2 chilometri cos'è saltato fuori che il gruppo 1 in sostanza quindi quelli più forti sono sì partiti mediamente più rapidi degli altri gruppi ma non poi di così tanto non di tanto ma rispetto agli altri invece sono stati in grado di decadere meno con la performance con il trascorrere del tempo cioè come tutti anche loro hanno rallentato il passo andando avanti con le ore ma sono riusciti in qualche modo a non farlo eccessivamente mentre gli altri gruppi hanno rallentato tutti molto nell'arco delle 24 ore possiamo dire in sostanza che i più forti siano stati in grado di mantenere un ritmo più uniforme rispetto a quelli andati peggio tra parentesi in questo paper si trovano anche altre analisi circa il sesso le fasce di età le diverse edizioni della gara e così via però onestamente i risultati non variano moltissimo all'interno di queste ulteriori divisioni anche se c'è un dato interessante soprattutto per la parte femminile perché le donne si sono dimostrate mediamente più brave nel partire magari più piano ma nello scoppiare meno rispetto ai maschi in sostanza possiamo dire che come prevedibile tutti quanti rallentano soprattutto con una gara così lunga è inevitabile ma chi si piazza meglio lo fa rallentando meno pur iniziando ad un ritmo per loro relativamente più facile rispetto ai runner più lenti insomma bisogna partire abbastanza piano ma non troppo e provare a rallentare il meno possibile decisamente più facile a dirsi che a farsi chiaramente ma nell'ultra trail come funziona perché comunque questi studi erano effettivamente basati su gare tendenzialmente piatte la 24 ore totalmente piatta invece nel titolo di oggi ho volutamente scritto proprio ultra trail dato che qua dentro spesso si parla di trail e anche di ultra e poi bisogna dire che nel trail effettivamente entrano in gioco delle altre variabili e soprattutto essendoci cambiamenti di pendenza e di terreno il passo al chilometro deve per forza modificarsi nel corso della gara e quindi ci sono più cose insomma da andare a prendere in considerazione per analizzare uno sforzo nel trail ci sono tre diverse possibilità mettiamola così non che dobbiamo per forza usare tutte quante anzi ma è solo per proseguire con questo approccio abbastanza scientifico un modo sono i misuratori di potenza il secondo è l'rpe o sforzo percepito e il terzo è la frequenza cardiaca tuttavia lascerei da parte quest'ultima la frequenza cardiaca perché troppo soggettiva eppure passibile di eccessive variazioni anche solo in base alle emozioni che si possono provare lungo tutto l'arco di una gara così lunga la terza fonte da cui attingo oggi ha in primi spiazzato dei misuratori di potenza su vari atleti di ultra trail pertanto veniamo al primo elemento di questi tre nominati quindi sfruttiamo i misuratori di potenza per fare un'analisi non che adesso dovete comprarne uno è solo per guardare cosa è saltato fuori come dicevo questi misuratori di potenza in casi come questi possono essere effettivamente dei validi alleati ma io per primo non ne uso e mi baso invece sullo sforzo percepito di cosa sia poi l'rpe lo sforzo percepito tra parentesi ve ne ho parlato neppure troppo tempo fa all'interno della puntata iniziare con il trail running tecniche allenamenti base e ve la linko anche nelle notte vediamo allora cosa c'era in questo terzo studio in questo terzo articolo che basava la sua analisi sui misuratori di potenza in una gara da 100 chilometri con circa 4500 metri di dislivello i cali di potenza generata dai due atleti in questo caso presi in esame sono stati del 15 per cento e del 16 per cento in linea se vogliamo con quanto uscito fuori dal primissimo studio visto quest'oggi in un ulteriore 100 chilometri un trail runner che alla fine ci ha messo poco meno di 16 ore ha registrato una riduzione di potenza del 18 per cento ma ce n'è stato pure un altro che invece non ha fatto per nulla una buona prestazione che è calato addirittura del 35 per cento e quindi che cosa ne deriva cosa possiamo capire anche se il campione ovviamente è limitato sicuramente che per fare una buona gara non si dovrebbe rallentare come quest'ultimo ma questo direi che è super mega ovvio analizziamo meglio allora i quattro casi appena nominati il primo che a quanto pare è un runner davvero fortissimo ha chiuso i suoi lunghi prima della gara circa 225 235 watt medi la sua potenza di partenza in questa gara era superiore del 6 10 per cento rispetto a quella di questi lunghi il secondo ha iniziato a 178 watt e i suoi allenamenti più lunghi si aggeravano intorno ai 165 175 la sua partenza quindi è stata del 3 7 per cento più veloce rispetto al ritmo della corsa lunga il terzo quello da meno di 16 ore è partito a 149 watt e i suoi lunghi si aggiravano attorno ai 132 quindi è stato l'11 per cento più veloce l'ultimo quello che è andato male è iniziato a 250 watt medi e i suoi lunghi sono stati intorno ai 215 220 watt cioè è andato il 12 14 per cento più veloce e da qua forse si evince qualcosa in più seppur anche prevedibile che più gli atleti partivano troppo forte rispetto alla loro capacità più detonavano nel corso della gara il rapporto tra il calo di percentuale di potenza generata e la percentuale espressa in partenza rispetto alle long run è inversamente proporzionale ripeto è una cosa se vogliamo anche ovvia e sensata se si inizia un trail da 100 chilometri un ritmo con la quale si farebbe una 10 chilometri si assisterà un rallentamento molto più marcato rispetto a quello che si otterrebbe partendo con un passo più conservativo tipo un ritmo maratona a quanto pare i dati suggerirebbero che per una gara di trail di 100 chilometri partire all'80 85 per cento della soglia dia risultati migliori tutta roba ovviamente molto facile a dirsi ma decisamente meno a farsi lo so benissimo comunque in parola ancora più semplici più povere per correre un ultra al meglio occorrerebbe iniziare ad un ritmo di poco superiore a quello della vostra corsa lunga cercando di rallentare il meno possibile accettando comunque il fatto che un po di rallentamento sarà inevitabile con il passare dei chilometri detta così sembra facile ma ci sono chiaramente alcuni problemi nel mettere tutto quanto in pratica perché sul trail non potete guardare il cronometro ogni chilometro e basarvi poi sul ritmo dovete affidarvi alle vostre sensazioni e con le gambe fresche i tempi che teoricamente dovreste tenere poco più rapidi della long run potrebbero sembrarvi troppo lentili per lì come sempre poi in gara c'è da considerare l'emozione l'adrenalina la competizione con gli altri runner il che porta anche inconsciamente ad aumentare troppo i ritmi riscando però di andare eccessivamente veloci per poi rendersene conto quando è troppo tardi e si scoppia magari domandandosi perché le gambe non girano più a dovere quando il ritmo ottenuto all'inizio sembrava così facile in realtà non lo era e si è esagerato il consiglio in questo senso potrebbe essere quello di trovare un livello di sforzo che sembri facile all'inizio per poi rallentare un pelino ulteriormente un filino passato magari l'entusiasmo iniziale dei primissimi minuti ma vediamo alcuni ulteriori aspetti che possono entrare in gioco in una gara così lunga intanto come dovrebbe essere il ritmo nella seconda metà chiaramente questo ha influenzato da quanto si è fatto prima da che passo si è tenuto se lo sforzo profuso nella prima metà è stato corretto coerente si tratta solo tra virgolette di cercare di mantenerlo il più possibile accettando senza farne un dramma che un minimo di decadimento ci sarà inoltre vanno tenuti presenti vari fattori che possono influenzare e costringervi a modificare il passo intanto la lunghezza della gara banalmente perché un ultra da 160 chilometri è diverso da un ultra da 50 e il ritmo che si può tenere comunque è leggermente più alto migliore diciamo così in una gara più breve più è lunga la gara e più il passo dovrà essere lento ma questo è abbastanza ovvio ci sono altre cose ovvie però il livello di fitness anche questa è una cosa banale ma doverosa tutte le mie pippe mentale di oggi partono dal presupposto che ci si sia allenati a sufficienza che si siano fatte le giuste long run che si sia lavorato sulle specificità della gara e questo lo vediamo anche dopo che si sia mantenuto un chilometraggio di slivello settimanale corretto e costante anche per un certo numero di settimane consecutive è chiaro che presentandosi la partenza non in forma non avendo fatti i compiti a casa quanto detto andrebbe completamente a farsi benedire in questo caso per una gara così lunga sarebbe necessario partire ancora più conservativi presumibilmente partendo al solito ritmo delle vostre corse lunghe se non ancora più piano specificità allenate discorso simile a quanto appena detto se la gara obiettiva avesse tanta salita ed essa non si fosse allenata precedentemente bisognerebbe tenerne conto anche in questo caso gestendo il ritmo della prima fase più lento per sopperire alla maggiore fatica che si farà correndo su questa specificità non curata in precedenza condizioni meteo nel trail running il meteo può influenzare molto il ritmo di gara pioggia e soprattutto fango che ne può derivare dalla pioggia possono costringere a fare molta più fatica ideme per la temperatura in caso di caldo o di grande umidità forse si dovrà partire un po più lentamente a meno che non siate già abituati a queste condizioni climatiche camminare o correre in salita questa è una domanda molto complessa e direi che la risposta come sempre in questi casi è dipende perché ci sono salite salite ed anche terreni diversi e salite in momenti diversi dove ci si sente meglio o dove ci si sente peggio credo si siano fatti pure qua alcuni studi nel tempo sulle varie percentuali di pendenza e relativi passi da tenere ma secondo me questo è uno dei rari casi dove queste cose lasciano un po il tempo che trovano la cosa da fare è basarsi sul proprio percepito sulle sensazioni sull'rpie che ho nominato a più riprese per tanti me compreso può venire naturale spingere più del dovuto in salita cosa che a volte specie in fatiche così prolungate può portare a dei momenti subito successivi dove un po recuperare rallentando andando anche fin troppo piano in verità perdendo di fatto quanto guadagnato sforzandosi su per la salita teoricamente arrivando a scollinare si dovrebbe essere in grado di riprendere a correre in modo normale diciamo così a ritmo abituale in piano in discesa senza alcun periodo di recupero ricordatevi sempre che lo sforzo dovrebbe comunque rimanere uniforme a prescindere dalla pendenza però troppo spesso quando si tratta di gare su trail si pensa che sia giusto e doveroso spingere un po di più in salita perché poi si può recuperare respirando in discesa ma se si fosse speso troppo durante la fase ascendente poi in discesa non si riuscirà a dare tutto con un periodo di recupero comunque doveroso correndo magari sì ma non come si potrebbe fare insomma camminare o correre dipende dallo sforzo percepito e anche un po dall'esperienza accumulata col tempo se sentite che il vostro livello di sforzo sta crescendo troppo rallentate e se è il caso camminate se non riuscite a correre in salita con lo stesso sforzo con cui correvate in pianura allora passate senza troppi indugi alla camminata e per quanto riguarda le discese che si fa tendenzialmente fare le discese è più facile dal punto di vista cardiovascolare ma se non si sono fatte cazzate in quanto a ritmi eccessivi non è la frequenza cardiaca fare la differenza nella seconda parte di un trail ciò che può essere molto affaticato è invece il fisico specialmente le gambe e le discese spesso sono proprio portatrici di crampi e affini ci sono passato anch'io perciò le discese devono essere affrontate con l'idea di ridurre al minimo il carico sui quadricipiti questo non vuol dire necessariamente andare piano anzi dipende anche da quanto siete abili a scendere perché a volte si tende a frenare troppo in discesa perché non si è abili non si è sicuri e queste forze di frenata necessarie per correre lentamente in discesa sono superiori a quelle necessarie per correre invece un più velocemente lasciando che la gravità aiuti e usando una cadenza elevata e brevi falcate per ridurre al minimo per quanto possibile gli sforzi dei quadricipiti e finalmente torniamo alla domanda iniziale come gestire il ritmo in un ultra andiamo allora verso la chiusura consapevoli che come sempre le variabili in gioco sono molte ne ho elencate giustora un bel po ma ero in debito con voi ancora della risposta alla domanda iniziale che come dicevo ammette di aver preso a piene mani dall'articolo dal quale sono partito per l'episodio odierno quale delle quattro opzioni proposte alla fine ha vinto qual è il modo migliore per amministrare la fatica di un ultra trail la risposta vincente forse anche a sorpresa è la quattro cioè nessuna delle proposte più scontate che ho messo io ma una ulteriore tecnica ovvero partire relativamente piano e ridurre al minimo il calare del passo come visto non troppo lenti ma con un ritmo da non detonare neanche dopo qualche ora poco più forte del passo delle long run poi ovviamente questo ritmo andrà aggiustato in base alla lunghezza e la difficoltà della gara l'opzione 2 cioè quella del negative split per intenderci è quella che più si avvicina a questa modalità ma l'idea di riuscire ad aumentare la velocità nell'ultima metà di un ultra è abbastanza utopica che poi se vogliamo sono tutti discorsi bellissimi sulla carta ma difficili da mettere in pratica ma a me piace guardarle queste cose io mi diverto un sacco comunque a provare a capirli e anche a provare a capire a come poter migliorare spero con questa puntata di non avervi complicato troppo la vita invece di andare a chiarire i concetti ma questo sport per quanto ovviamente influenzato anche da caratteristiche tecniche e mentali competenze e sensazioni personali secondo me deve anche basarsi su alcuni dati scientifici e matematici la corsa su strada per sua natura si presta ancora di più ma pure il trail running e l'ultra running può e deve secondo me fare degli ulteriori passi avanti in questa direzione chiaramente ognuno la può vivere come vuole una gara ci mancherebbe altro mi sembra giustissimo e se l'obiettivo delle gare è solo correre per divertirsi e arrivare in fondo qualsiasi tempo si faccia ok ci sta ci mancherebbe ma se si è anche mossi da un minimo di spirito competitivo anche solo con se stessi che non sia importante prendere in considerazione aspetti come quelli visti quest'oggi ed allora per altre follie come questa iscrivetevi al podcast fate tutte cose andate in descrizione schiacciate tasti ci sono un mucchio di cose da premere e dove premete fate bene e per aiutarmi nel promuovere la cultura del running del trail dell'ultra e quello che volete come oggi per noi amatori sempre nelle note trovate il link per accedere al canale patreon si può partire anche da un solo eurino al mese e solo lui per me già per iniziare vale tantissimo per oggi è veramente tutto cari runners alla prossima gara mi raccomando ignorate tutto quello detto quest'oggi e partiti a manetta ci sentiamo alla prossima puntata